Sarà buono ragazzi, in questo nuovo video In queste ore circolata una notizia Che i giocatori si sono ribellati Alla decisione del presidente di fare il ritiro Ovvero che i giocatori Devono stare a tutto il tempo, devono stare a allenarsi E poi dopo non possono uscire Vanno solamente nelle loro camere Quindi i giocatori si allenano solo e non possono uscire Non sono liberi E i giocatori sono ribellati a questa cosa Dopo la partita Se ne sono andati e sono andati per conto loro Si sono allenati il giorno dopo c'è stamattina E poi sono andati per i cazzi loro E Ancelotti era d'accordo su questa cosa Mi pare che abbia sostenuto la scelta Dei giocatori, mentre non quelli dell'Arentisti Di fare il ritiro Tant'è vero che Ancelotti ha fatto pure silenzio stampa C'era un appallato proprio La società non si è espressa proprio in conferenza stampa E ciò implicherebbe una multa, una sanzione Perché comunque è previsto per legge Secondo la normativa UEFA Che dopo una partita 10 dicembre Bisogna fare la conferenza stampa, è prevista Non so il perché C'è anche il diritto a non parlare Che mica c'è sto obbligo di esprire la propria unione Per me è una stronzata Però non è questo l'argomento del video Per me questo ammutitamento che hanno fatto i giocatori È una cosa vergognosa È una cosa ridicola Perché? Per quanto dell'Arentisti lo si possa odiare Lo si possa criticare per le sue scelte presidenziali Che io non ho mai criticato Lo si possa criticare per la sua personalità Per me è la sua persona Per me è la sua ragione Perché lui è il presidente Lui fa quello che vuole Lui è il presidente C'è all'interno della società a Napoli Lui è il presidente Il padrone è la società per azioni Finmaura Lui è il socio Però il presidente Colui che ha poteri appunto è più importante È lui È lui il presidente E sia il consiglio di amministrazione Quindi la dirigenza Gli altri membri della società Che i giocatori L'allenatore Devono rispettare le sue decisioni Se l'Arentisti è posto in ritiro Gli allenatori e i giocatori lo devono rispettare Non è che si ribellano e fanno quello che vogliono loro No, sono pagati C'è un contratto di lavoro C'è un vincolo di subordinazione Che hanno i giocatori verso il presidente È così che funziona Così come funziona la società di calcio Così come funziona In qualunque rapporto di lavoro C'è i giocatori che fanno I bambini viziati Le prime donne Vogliono fare i liconi del cazzo Sinceramente non mi piace Diciamo ve lo parlare in questo video Perché ne stanno parlando tutti Ed è una notizia importante Che volevo parlare Che era importante sottolineare Diciamo che è un comportamento A me non mi è piaciuto dei giocatori Perché il merito serve Se è fatto bene E nel momento giusto Poi per una settimana Non è chissà che Il ritiro serve diciamo per Non so Per elaborare una nuova strategia Per dare una nuova mentalità Può essere utile Io sono favorivo ai ritiri Anche per dare un po' di mentalità Di stabilità all'interno dell'ambiente Ma no che Ancelotti Non è d'accordo con il ritiro No Perché Ancelotti Vedamente si è posto male Perché potete dire In modo diverso Che per me il ritiro Non è una cosa giusta Ma no Fare A così Ribellandosi contro il presidente È una cosa sbagliata Cioè Facciamo un paragone Se Un operaio Un operaio che lavora Che ne so In una fabbrica Se l'operaio dice Tutto in tratto Di non accettare Una detrazione Del proprio stipendio Del proprio salario Oppure che ne so Che viene spostato In un altro reparto Che non è di sua competenza Lui si arrabbia E decide di ribellarsi Con il datore di lavoro Contro Massimo Che diceva Napoli Viene cacciato Se fa questi comportamenti Se fa questa sorta Da mutilamento Nei confronti Del proprio datore di lavoro Invece E se fa questi comportamenti O viene cacciato Si scioglie il contratto Oppure E viene tolta Una parte dello stipendio Come ad esempio Gli insegnanti che scioperano Il personale scolastico Gli toglie un po' Di stipendio È normale Invece Nel mondo del calcio Se un giocatore Fa dei comportamenti Sbagliati Come questi O non gli tolgono Lo stipendio Oppure Non lo fanno cacciare Dalla società Ovviamente non gli fanno nulla Al massimo una multa Che considerato I loro mega stipendi Una multa di 15.000 euro 30.000 euro Non è nulla di che Far capire Diciamo adesso Molte messe a posto Così far vedere che Li stanno punendo Stanno facendo qualcosa Ma in realtà Non cambia nulla Alla fine il giocatore In futuro Sempre ripeterà Quei comportamenti Quindi Quello che penso io È che Sul fatto che i giocatori Siano comportati male Non rispettandoci Nel presidente Effettivamente è così Perché il presidente Deve decidere lui E sono allenatori E i giocatori Che devono rispettarli Poi secondo me Quando bisogna fare un ritiro Il presidente Non deve Per me Non deve mai decidere Di sua iniziativa Bisogna ascoltare Pareri degli allenatori Dei giocatori Pareri Perché Comunque il ritiro Non ci riguarda Però sono cose serie Dove uscire i canciotti Per essere dimesso Diciamo Considerata la situazione attuale Il rapporto di cato Che c'è tra L'ancelotti E la società È probabile Che l'ancelotti Venga dimesso Oppure venga esonerato Allora se Se si rimette Ancelotti Si comporta La grande signora Anche se Anche lui ha sbagliato Perché lui ha accolto I giocatori Nella decisione Di non presentarsi Al ritiro Però Io l'ho detto Per me Ancelotti deve essere esonerato Non solo per motivi tattici Ma anche perché Non sta riuscendo A dare stabilità All'ambiente Non sta riuscendo A dare stabilità All'ambiente Non sta dando identità Se mi fanno una domanda Che stile di gioco Applica Ancelotti Qual è il gioco Di Ancelotti Io non saprei che rispondere Perché se Tipo Guardiola Io so il gioco Un gioco veloce Sul possesso palla Sui terzini larghi Sulle ali larghe La Tavanta magari Gioca molto bene Con il raddoppio Che non pressa mai Con un solo giocatore Cioè c'è sempre Un altro giocatore Vicino ad aiutarlo Che magari uno presse E l'altro Anticipa Sfruttare Il sfruttamento giusto Per prendere il pallone Un esempio L'Inter gioca molto Sugli esterni Con i cross Questo è fare un esempio Con la seconda punta Che gioca di raccordo Quindi Sono squadre Quelle ce l'hanno L'identità Quindi so dire Che tipo di gioco Applicano Perché so Che tipo di gioco Se il gioco fanno L'identità che hanno I movimenti che fanno Invece Una squadra come Napoli Che non c'ha un gioco Non c'ha un'identità Quindi non saprei Che gioco sta applicando Che identità Che approccio dà Che mentalità dà Che la filosofia di gioco Ecco Per questo Per questo Per questo per me Ancelotti Va esonerato Molti dicono E chi prendiamo Io penso E quando una società Decide di esonerare Un allenatore Deve avere già in mente Da prima In maniera preventiva Che Quale è il sostituto Poi non penso Che qualora Ancelotti Dovesse essere dimesso Qualora si rimettesse Ecco Per parlare meglio L'italiano Ci sia Posso sostituirlo Il figlio Anche perché Il figlio è uno Che si lega All'allenatore Tra la prima esperienza Con il padre Quindi è difficile Che sostituisca lui Senza che ci sia Ancelotti Io penso che Se Ancelotti Dovesse rimettersi Oppure essere esonerato Ci sarà un allenatore Da esterno Svincolato E i tre I quattro Mi vengono in mente Sono Cattuso Allegri Murigno E Allegri Allora tra quelli Che mi piace di meno È Gattuso Perché non ha ancora Abbastanza esperienza A Napoli Siamo un allenatore Di esperienza Che però Può dare ancora molto Ancelotti è vero Che è aziendalista Ancelotti è aziendalista Perché se il presidente Non vuole spendere Ancelotti si adegua Non è come Conte Che se il presidente Non vuole spendere Conte si ingazza Per questo Conte Lo vedrebbe Annavoli Ma non Conte Laurenti Che se Laurenti Non vuole spendere troppo Conte si ingazza Invece Ancelotti Si adegua È a me una cosa Che non piace Perché a me il presidente Io a me non piace Presidente che si arrabbino Però è un presidente Che in maniera professionale In maniera seria E pulita Senza sbraitare Dimostri al presidente Che questa non è Una squadra competitiva Lo deve dire Con grande stile Ecco Lo stile ci vuole Quando bisogna dire Queste cose Non con la Con la sfrontatezza Con la selvaggità Parliamo Diciamo in maniera Selvaggia All'Antonio Conte O all'Allegri Calper Allegri Fa così a volte Ma in maniera Molto più Leggera rispetto a Conte Però Tornando a Gattuso È quello che mi piace di meno Perché non ha ancora Abbastanza esperienza E poi Al Mina non è che Faccia un grande gioco Però trasmette La mentalità Alla squadra Mentre Allegri Sarebbe Per me La terza scelta È un bravo allenatore Mi fa impazzire Soprattutto perché Allegri riesce a gestire Bene lo sfogliatoio A gestire bene Il gruppo La squadra È vero che È un difensivista E gioca male Però A parte I risultati di portare a casa Però riesce sempre a dare Quel qualcosa in più Alle squadre Ed è un elemento positivo Cioè ha fatto vincere Lo scudetto Con il Milan Già in netto calo Con giocatori Ormai vecchi Sebbene la squadra Era forte Alla Juventus È successo a dare Quest'altro di mentalità In Champions Sebbene non ha mai vinta Dalla quella mentalità in più Perché con Conte Juventus Non ha mai superato I quarti di finale Ma è anche gli ottavi Invece Se non gli ottavi Quarti Invece Allegri È arrivato per due volte In finale Mica poco Per una Juventus Che era fortissima Ma non era Tra le prime quattro Potenze europee Ma in campionato Dopo in campionato È la norma Però comunque È lì che riuscita a confermare E ha reso la squadra Più forte Ed è riuscita A rendere ancora più forte Una squadra Che già era fortissima Con Conte Perché io dico Che Conte Ha vinto lo scudetto Con Vucinic E Giaccherini Ma Conte Teneva pure Pirlo Pogba Vidal Marchisio E il BBC E Buffon Teneva comunque i campioni Giusto in attacco Non teneva campioni Conte I campioni sono stati con Allegri Allegri Qui si mostro come Allegri Sia uno capace Di farsi rispettare Che se gli chiedi il campione E quello che arriva Questo Allegri Lo perere al Napoli Non a punto di vista Tattico del gioco Però come figura Come star power Mi piace E a proposito di star power Anche Giuseppe Mourinho Per me è perfetto Mourinho è vero che Pure lui È uno che si fa odiare facilmente Non fa un gioco Eccezionale difensivista Però Mourinho è Mourinho Cioè Mourinho È riuscire a vincere Un Europa League Con la United Arrivare secondo In campionato E a vincere con il Porto Con l'Inter Cioè Mourinho Non ha mai vinto Trofei Con superpotenze Con grandi squadre Ha vinto trofei Con squadre Con l'Inter Sì forti Ma non tra le favolite Coramati davvero Aveva fallito Poteva vincere di più Però Mourinho Ha considerato in currì Come i risultati Sono positivi Anche con Chelsea È arrivato prima In finale di Champions Cioè Mourinho E poi è un grande allenatore Tutto perché riesce a trasmettere Quello di mentalità Poi quando c'è L'allenatore è Mourinho E viene Mourinho I tifosi si gasano E incita di più A venire allo stadio A volte nel Napoli È così Quando viene un grande campione Un grande allenatore Inicia di più i tifosi A venire allo stadio Perché è bello Vedere da vicino Queste persone Che rappresentano Un simbolo Un'icona Ecco Ma la natura Che vorrei di più È Luciano Spalletti È vero che sono obiettivi difficili Ma per me Con Chelsea In questo momento Non parlo di bravura Rispetto ad Ancelotti Perché magari Ancelotti Rispetta alcuni di loro E pure è più bravo Però in questo momento Ancelotti Non esce più Non è adatto Non è adatto A questo Napoli Cioè Sta sbagliando E la cosa migliore Sarebbe cacciarlo Perché alla fine Quando va male Bisogna correre ripari Invece Prendendo il nuovo allenatore Potrebbe dare un'area nuova E potrebbe dare una mentalità Migliore E potrebbe essere asserenati Per questo Il mio Spalletti È perfetto Perché non solo Spalletti gioca molto bene Sta valorizzato Per certi giocatori Cioè Spalletti È rivitalizzato Il Ciaui Che veniva da periodi bui Legate agli infortuni E prestazioni Proprio esaltanti Juan Jesus Caliente Sembra una pippa Ma la Roma Panchinaro Ha rivitalizzato Emerson Palmieri Ha rivitalizzato Rudiger Giocatori che Prima facevano Cosme D'acqua a tutte le parti Ora sono giocatori Di tutto rispetto Ha reso Cioè Ha praticamente Ha resuscitato Dzeko Perché Dzeko è vero e forte Però aveva una stagione Disastrosa Con Spalletti Dzeko ha fatto 28 gol 29 golle Dzeko Cioè non sto parlando Di 7 gol Ma di 29 Far capire Spalletti è vero che Giocatori sa 3 E in questo momento Non abbiamo una scuola Di sa 3 Però Alla fine lui L'anno 3 Lui sa cosa fare Questo era un video Generale Sulla situazione Succesa Negli ultimi ore Anche su Prima di quelli che Possono essere Possibili candidati Alla panchina del Napoli E niente Questo finisce qua E niente Ciao